Signore e signori, all'ora solare dirige il maestro Peppe Vessicchio. Il maestro Peppe Vessicchio che si è prestato con una grazia infinita maestro, con una grazia infinita a dirigere un'orchestra che non c'era, con una bacchetta che però è vera, siamo andati questa mattina in un negozio di edizioni musicali a comprare una bacchetta maestro è meraviglioso, io lo faccio così e proprio lei è vero, non è un ologramma, è vero, è lei. E' quell'orchestra che non è vera e mi dispiace perché sarebbe bello se ci fosse in uno studio. Dovevamo organizzare Sara Broghi, se ci voleva un'orchestra in questo studio. No, nel suo, ma in generale sarebbe bello vedere più musica, ascoltare più musica suonata in televisione. Questo è assolutamente vero. Peppe Vessicchio, ovvero, prego maestro, ovvero un uomo che con la musica e con Mozart, ne parleremo tra poco di Mozart, voi direte per forza si parla di Mozart, e no, perché Mozart, i pomodori, pomodori, sì, anche i pomodori, fa tutto parte di questo splendido contenitore pieno di contenuto che è un maestro che è verdiano. Se Verdi l'avesse incontrata, maestro, sarebbe stato così geloso della sua meravigliosa barba e di quei baffoni e di quei capelli, avrebbe voluto imitarla. C'è una bella sovrapposizione, devo dire. Proietti mi prendeva in giro perché diceva che ero cascato dalle mille lire, perché c'era... Se lo diceva Proietti, voglio dire, possiamo crederci. Allora, quando noi, diciamo, dirige Peppe Vessicchio, e parliamo di un grande musicista quale lei è, di un grande direttore d'orchestra, compositore, però c'è quella familiarità che, grazie a Sanremo e grazie alla sua frequentazione del mezzo televisivo, è diventata e l'ha fatta diventare un soggetto di casa. Lei lo sa questo? Sì, sì, mi accorgo dalle persone che incontro, ma anche qui negli studi, nei corridoi, mi accorgo della familiarità e dell'affetto, il che mi riempie di responsabilità, perché vuol dire che tutto quello che è stato fatto finora deve essere sostenuto e quindi non si può trasgredire. Ecco, questo è un impegno in generale. Lei non ha l'aria però da trasgressore, lei è una persona... È vero, è vero. Di fiducia, di fiducia. Sì, sì, però ho sempre pensato di dover rispondere alla fiducia degli altri. La fiducia è una parola laica. In effetti il suo corrispettivo spirituale è fede. In effetti credo che ci sia una mia fiducia nella vita e negli altri, per cui come gli altri siamo noi, quindi dobbiamo rispondere di questa condizione sempre. Ma che meraviglia che è Peppe Vessicchio, una meraviglia. Ora la domanda è, ma quando non fa musica Peppe Vessicchio, che fa? Cioè, maestro, quando lei non dirige, quando lei non scrive, quando lei non è in mezzo alle pagine con il pentagramma, che cosa fa? Ma oggi ho cucinato, per esempio. Che uomo stupendo! Oggi cosa ha cucinato, maestro? Siamo curiosi? Sì, sì, con i broccoli, perché questo è periodo invernale, diciamo, c'è questa fantastica verdura e la pasta con i broccoli è una cosa del sud in particolare e quindi io sono napoletano di origine. Lei è un ragazzo napoletano, quindi insomma... Quindi la cosa mi riporta indietro nel tempo, mi rassicura e poi pare che la faccia, sappia farla bene, per cui in famiglia è apprezzata. Apprezzano, sa anche cucinare, è meraviglioso. Quest'uomo conosce sua moglie quando aveva 20 anni. Ora vi racconteremo anche quando andava a fare l'uditore al conservatorio, quando... Abusivo. Abusivo. L'unica cosa abusiva della vita di Peppe Versicchio, l'unica, l'unica. Ma sua moglie, e guardate che coppia, l'ha conquistata un po' anche ai fornelli, dica la verità. No, 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 no. Io, allora adesso, diciamo un aspetto più civile, ma quando avevo 20 anni, avevo i capelli lunghissimi, portavo una fascetta nei capelli, ma sì, avevo la barba lunga... Come Rambo? Sì, in parte come Rambo, in parte come Pillade, non voglio dire perché voglio dire la... Il che sono... In parte, ecco, per la fascetta. La fascetta, sì. E quindi ero considerato un hippie, ma quando vuoi in fondo non lo ero, ma siamo stati tutti, in qualche modo, rispetto alle generazioni precedenti, siamo stati tutti portatori di... Abbiamo tentato di cambiare quel poco che potevamo cambiare e io l'ho conosciuta imbracciando una chitarra e questo è stato il segreto poi alla fine della possibilità. Cosa le ha suonato, maestro? Ma in quel periodo il mondo dei cantautori internazionali offriva con Carole King e James Taylor temi bellissimi. C'era una canzone che si chiamava You got a friend perché si parte sempre alla larga, all'epoca eravamo gentiluomini, per cui la prima cosa che si diceva, guarda, qualunque cosa possa esserci, io sono un tuo amico. Mentendo in maniera totale, completa. Era un modo molto soft, molto gentile di accostare. Era una manovra di avvicinamento. La canzone era molto bella, si chiama You got a friend, diceva qualunque cosa accada, basta che tu mi chiami o starò già a bussare alla tua porta. Da quanto tempo siete amici e innamorati con questa bellissima signora? Dalla fine del 77, diciamo dal 77. Belli, che meraviglia. Bella famiglia, figli, nipotini, bisnipotini. Bisnipotini. Cioè lei è bisnonno? Sono bisnonno, sì. Che meraviglia. Ma che splendore. Eh sì, sono tutte femmine. Questo prima di usare la parola splendore, metterei un asserisco. Perché l'unico maschio è il gatto, che è arrivato da poco. Ma la casa è stata sempre... Anche i cresciti erano femmine. Non so come mai è una... Per essere beato tra le donne. Sicuramente. Per essere beato tra le donne. Allora, sì, no, ci fermiamo soltanto per un attimo. Lo facciamo. Però abbiamo il maestro Peppe Vessicchio, che ha, questo lo dico con la massima serietà, ha accettato di investire un'ora del proprio tempo per dedicarcela. E noi questo lo apprezziamo tantissimo. Grazie. Proprio tanto, 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 tanto. Tra poco, Allora Solare, ne sentirete delle belle, molto belle, molto intonate. I criceti femmine. Eccoci qua, Allora Solare è l'alto, alto, altissimo onore di avere con noi, caduto dalle mille lire di Giuseppe Verdi, come disse Gigi Proietti, il maestro Peppe Vessicchio. Ma che bella cosa. Grazie. Questa è creata una... Siamo in tanti studio ad applaudirla. Allora, la sua bella, bellissima Napoli. Lei ha detto una volta che la musica per lei sono anche quelle canzoni che sua mamma cantava, no? Con un filo di voce, le canzoni che le avevano resa, che le ricordavano un periodo felice. Ma io penso che la voce della mamma sia una magia ineguagliabile. Questo vale per tutti quanti noi. E' chiaro che aveva un ricordo di una vocina flebile, un canto quasi a bocca chiusa, anche imbarazzato, un po' di vergogna a cantare. Erano altri tempi rispetto a quelli di oggi. E quindi le canzoni rivelavano il suo attaccamento, la sua passione a quel ricordo. Perché ovviamente chi ha sofferto la guerra ha in questi ricordi dei fasci di luce, di calore, di gioia, di speranza, che diversamente è difficile apprezzare. Mi rendo conto che gli anni del dopoguerra fino ad oggi ci hanno fatto dimenticare, secondo me, una serie di valori. Proprio i valori della famiglia, il valore dell'altro, della comunità che si adopera per una crescita, per un rinnovo, per una ricostruzione. Poi da un certo punto è sempre tutto scontato. Nel modo di cantare, che ricordo, dell'epoca c'è stata nostalgia, ma c'era anche proiezione verso il futuro. E anche un ringraziamento per quello che c'era a disponibile in quei giorni. Per essere ancora vivi. Per essere ancora vivi. È vero, è vero. Mia sorella si chiama Mary, in effetti si chiama Maria, perché è nata che in casa nostra c'erano gli alleati. Quindi ospitavamo in casa alcuni degli alleati e ovviamente Maria è diventata Mary. Quindi per me è Mary con la E, ovviamente. Mary con la E, ovviamente. Saranno anche alleati, ma noi napoletalizziamo tutto. Mary. La mamma come si chiamava? Anna. Anna. Che bello. E sua mamma ha visto questo figliolo diventare... No. No, mio padre ce l'ha fatta. Mio padre sì. Ed è stata una delle cose più toccanti della mia vita è stato andare a trovare un ospedale poco prima che finisse e leggerne i suoi occhi una soddisfazione. Io avevo già fatto delle cose di cui potesse vantarsi. Poi è stato un mio grande sostenitore perché in un giorno difficile della nostra vita vivevamo soli e lui mi ha proprio detto io se te basta con i soldi della pensione, il sostegno minimo, il piatto a tavola e le sigarette perché all'epoca fumavo, se questo ti basta, l'iscrizione all'università, prova a inseguire i tuoi sogni. vediamo se ce la facciamo. Che bravo papà. Eh sì, effettivamente. Io spero, ma sono certo anzi, di aver lasciato a lui la sensazione che ce l'avevamo fatta entrambi. Questa era la... quindi mi ha traghettato, mi ha dato la possibilità di passare dall'altra parte. Che bella persona che è lei maestro, lo sapevamo, però è proprio bella. È proprio una bella persona. Davvero. Davvero, c'è. Perché sì, perché ce l'avevamo fatta, no? Questo parlare al plurale che fa parte di quella paura singolarmente vissuta in un tempo drammatico. Non ne stiamo vedendo un altro così vicino a noi. La guerra, solo la parola guerra. Le parole hanno un suono e il suono della parola guerra è spaventoso e non va mai, mai dimenticato. Ce l'avevamo fatta, ce l'ha fatta Pepe Vessicchio, che certe volte io mi domando, lei vedeva Sanremo, vero? Sì, sì, come no. In tv. Eh, quando era in bianco e nero. Quando era in bianco e nero, quando lo sortavano. Però l'ho visto anche a colori, certamente. Sì, no, sì. Però, però... Assolutamente. Sì, sì, lo seguivo. Seguivo il festival perché era un evento musicale. Non è che all'epoca la televisione, voglio dire, trasmetteva poche cose. Cominciava il pomeriggio con la tv dei ragazzi. Io, già mi piaceva la musica del monoscopio. Cioè, quando scendeva e risaliva la rete e riscendeva. Sì, sì, sì. Era bellissimo, era emozionante. E Sanremo era un'occasione di vedere tanta musica e tanti cantanti uno dopo l'altro. messi insieme. Messi, messi insieme, sì. Chi lo poteva mai pensare che poi un giorno... È vero. ...quel luogo meraviglioso sarebbe diventato il luogo... Voglio dire, ci sono tantissimi direttori. Non l'ho mai sognato, eh. Non l'ha mai? Non l'ho mai sognato. Mai, non era Sanremo che sognava lei. No. Succederebbe esattamente il contrario. Massimo. Ho sognato tante cose, ma proprio quello no. Ed è capitato, veramente è capitato. Io ero impegnato negli studi di registrazione a realizzare musica. Cercavo occasioni per fare musica. Avevo bisogno proprio materialmente di produrla. Quando poi è successo che c'era Zucchero nel 1986 a Sanremo con canzone triste, canzone d'amore e io avevo lavorato alla produzione e quindi mi chiesero di accompagnarlo perché c'era bisogno sempre di una figura di sostegno tecnico, usiamo questo termine, perché si cantava sulla base e bisognava verificare se il livello della voce sulla base era congruo, se c'era bisogno di effetti, meno effetti. I cantanti avevano bisogno di un alter ego, diciamo, nella regia o nella sala. E quindi quella è stata la prima volta che ho messo piede, ma anche lì, proprio perché non c'era l'orchestra, non si materializzava neanche nella testa l'idea di una possibilità. Fu nel 1990, quando poi è arrivata l'orchestra, rientrata l'orchestra sul palco e io mi sono ritrovato lì. Fa effetto essere lì la prima volta e dirige il maestro Pepe Vessicchio? Molto. Infatti ero preparato a tutto ciò che doveva avvenire musicalmente, ma l'unica cosa che non avevo razionalizzato era il fatto che avrebbero detto il mio nome e cognome e mi sarei dovuto girare verso il pubblico, votare, salutare il pubblico, cioè fare qualcosa che non avevo scritto né sulla partitura né qualcuno mi aveva insegnato. L'assistente in studio disse molto sbrigativamente, quando te chiamano ti giri, guardi là. Quando te chiamano te giri? La luce rossa in chino. Ti saluti e vai. Effettivamente quando ciò è accaduto io mi sono girato e una vena nel collo ha cominciato a battere fortissimo, chiedi oddio sto morendo, sta succedendo qualcosa, ma un attimo dopo quando mi sono rigirato e ho visto l'orchestra è sbagliato tutto perché sono tornato di nuovo. Sì, sono tornato a casa. È tornato a casa. Chi c'era sul palco a cantare diretta da lei? C'era Mia Martini. La grande Mia Martini. Eh sì, è stato un battesimo bellissimo perché quell'anno c'erano sia Mia Martini che Mango, dirigevo entrambi e devo dire che più passa il tempo più la loro mancanza acuisce il ricordo tenero e emozionante. E la nevicata del 56 la può cantare solo lei come tantissime altre canzoni. Ha citato Mango, un artista che prima di finire si è scusato col pubblico perché si era sentito male sul palco. Gli artisti sono tutto questo, gli artisti che incontrano un direttore che li supporti, sostenga come il maestro Peppe Vessicchio sa fare, poi ringraziano, ringraziano perché gli vogliono tanto, tanto, tanto bene e sapete ci sono arrivate un sacco di cartoline per questa puntata. Maestro punti quel monitor e guardi un po' cosa si dice di lei. Ciao Beppe, ciao, felice di saperti lì, ma che felice anch'io perché forse non te l'ho mai detto, forse te l'ho detto ma in toni diversi, in un momento diverso. Ecco così un po' da lontano che voglio dire che sei una persona strepitosa. Strepitosa perché io credo che un uomo che ha un cuore come il tuo, una sensibilità, un talento come il tuo, in questo momento dovrebbe essere, che ne so, in America, in America a fare archi, a dirigere archi per, Paul McCartney, si deve fare un ultimo concerto, ecco io ti vedo lì, ma ti vediamo anche qua chiaramente, ma voglio dirti che mi hai dato tantissimo, Beppe, ma davvero tanto e ti ringrazierò sempre per la tua generosità che è immensa. Io ti saluto e spero di rivederti presto, anche per suonare un po' insieme, per fare ancora qualcosa insieme. Grande Beppe. Ron, grazie, grazie Ron. Rosalino è parte della vita familiare perché ho avuto opportunità con lui di, non solo di lavorare a musiche bellissime, ma anche di condividere le sue amicizie e faccio i nomi da Renato Zero, Lucio Dalla, Gianni Morandi, Biagio Antonacci, Loredana Bertè, Anna Oxa, Francesco De Gregori. Abbiamo festeggiato nel, se non sbaglio nel 2000, nel 2002, i suoi anni di carriera e in un unico spettacolo c'erano tutti loro, ma l'atmosfera che c'era non era quella di chi va a ospita un programma televisivo a cantare, era proprio quella della pacca sulle spalle degli abbracci. È una cosa diversa. È una cosa diversa perché è vita, è vita condivisa. E avete sentito le parole di Ron, che sono parole come è Ron, dritte, dirette, trasparenti, insomma. Ma con lui c'è stato, c'è un episodio che mi fa piacere raccontare, lui aveva il suo direttore ed era in gara a Sanremo. Poi a un certo punto gli hanno, doveva scegliere la cover da cantare nella famosa serata delle cover, come è stato quest'anno il venerdì, e lui era, fino a quel momento non aveva mai voluto cantare canzoni di Lucio, perché dopo la morte di Lucio ovviamente tutti hanno cantato Lucio, ma lui che era veramente la persona più vicina a Lucio. Non ha voluto, e questa è una cosa di cui io voglio direi gli do merito, perché non ha voluto, non ha voluto neanche lontanamente far passare il senso di un approfittare di questa condizione. Era veramente molto molto legato. E quindi nella circostanza mi chiamò e mi disse, io ho il mio direttore per il brano in gara, ma ho scelto di cantare la canzone di Lucio, perché se non la canto io la canterà un altro, sullo stesso palco, tanto vale che io lo faccia, però lo vorrei fare con te, perché memore appunto di quello che avevamo condiviso nel passato. E quando abbiamo preparato il brano è successa un'altra cosa direi miracolosa, ma non vorrei abusare di questo aggettivo, ma non siamo riusciti a provare il brano nella giornata del venerdì, perché l'affollamento degli ospiti in quella giornata è tale. Il lavoro è tantissimo, qualcuno era andato oltre il proprio orario, insomma alle 19 ci hanno detto ci dispiace, non potete provare. E noi la sera avremmo dovuto andare sul palcoscenico a eseguire questo brano. E ci siamo guardati, io ho detto che facciamo? E lui mi ha detto tu che dici? Io dico che facciamo lo stesso, ci proviamo senza provare. Avevamo con noi il maestro Pica alla chitarra, per cui avevamo un supporto sul quale poterci basare. Ho detto guarda, se vedo che qualcosa non funziona, che non capiscono dal gesto dove siamo, che cosa stiamo facendo? Zittisco loro e andiamo avanti e cerchiamo di fare, però mi sembra giusto non rinunciare. Invece quella sera è stato tutto perfetto, quindi siamo stati aiutati dal destino nel voler fare questa cosa. E se ancora oggi vado a vedere quell'esecuzione era così carica anche di tensione da parte nostra, che è veramente ricca di emozioni. Giallo, ancora, non so se sono io che magari sono condizionato da quello che è accaduto precedentemente, ma quelle immagini continuano a emozionarmi. Forse c'era Lucio Dalla seduto sulla scala. Può essere. Aiuto! Aiuto! Allora, vorrei avere, adesso lui si alza e se ne va cinque ore per intervistare il maestro Peppe Vessicchio. Improvvisamente l'ospite si rimasta lontana. No, invece cercheremo di fare tutto in questi pochi minuti. L'amicizia fondamentale con Gino Paoli, ti lascio una canzone, è quanto voi, oltre a tutto il resto, mettete insieme anche per Sanremo. Elio e le storie tese, geniacci, geniaccio assoluto. Elio, che la chiama, maestro, dicendo noi vogliamo lei, maestro, ma vogliamo arrivare ultimi con la terra dei cachi. E non accadde, ma come vogliamo arrivare ultimi? È tutto nella genialità di questo uomo. Ma assolutamente, io non avevo neanche idea di cosa potesse essere al di là dei brani che suonavano. Eccolo qua. Ci siamo ritrovati al primo incontro, dove appunto lui ha esordito dicendo noi vogliamo che lei ci aiuti a realizzare questo sogno, noi vogliamo arrivare ultimi. Però poi disse, perché vasco rossi penultimo, zucchero penultimo, perché non tentare il tutto per tutto. Anche questo è il maestro Peppe Vessicchio. Sanremo 2023 è tornato all'Ariston, ha diretto a quattro mani con il maestro Melozzi. Destinazione Paradisi, intepitato da Gianluca Grignani e Arisa, standing ovation. Ovunque il maestro Vessicchio si giri, faccia, vada, secondo me pure quando entra al bar per chiedere un caffè, la gente l'applaude. Dica la verità. No, applauso no, però diciamo che la richiesta se è un altro di contatto, una foto, piuttosto che una setta di mani, quello c'è sempre. È una cosa bella per me. Le vogliono bene maestro. Le vogliono bene, lei il bene se lo merita. Il maestro Vessicchio, quanti se che devo fare il conto dei secondi, è anche Zecchino d'oro. Ne abbiamo le prove, certificate, garantite, guardate. Ciao maestro Vessicchio, noi non sapevamo chi fossi. I nostri genitori ci dicevano che sei un direttore d'orchestra molto importante e che senza di te praticamente Sanremo non si può fare. Ma quando sei arrivato qui all'Antoniano abbiamo scoperto che non solo sei molto importante e super bravo, ma sei anche molto simpatico. Ci seguivi dietro il vetro dello studio di registrazione, quando con Sabrina registravamo le canzoni del Zecchino d'oro. E poi ci hai sempre fatto un sacco di complimenti. Hai sempre aiutato l'Antoniano ad aiutare le persone sole, senza casa che non hanno da mangiare. Noi ti mandiamo un grande abbraccio insieme a tutto il piccolo coro. Viva la musica! Viva la musica! Maestro, lei è anche questo! No? Beh, ho quattro anni di collaborazione con l'Antoniano, mi hanno fatto scoprire il mondo dell'Antoniano, dei frati francescani, le menze dei poveri e tutto il loro impegno nei riguardi del mondo dell'infanzia. Si parla tanto di visualizzazioni perché oggi sembra che la moneta più importante sia il numero di like o delle visualizzazioni. È un metro per misurare l'importanza delle cose. Ci sono delle canzoni del Zecchino d'oro, come Volevo un gatto nero, che hanno superato i 200 milioni di visualizzazioni. Questi sono numeri che dovrebbero farci capire anche il valore di questo evento annuale, ma di tutto quello che c'è dietro. La bimba ha citato la maestra Sabrina, Sabrina Simoni. Il lavoro che fa il coro è un lavoro di grandissima qualità. È bellissimo. È tutto di grandissima qualità, ed è tutto di grandissima qualità, non a caso, quando il maestro Vessicchio viene chiamato, anche quando viene chiamato alla scrittura. Vi ricordate i pomodori, Mozart, questo inizio un po' bizzarro che abbiamo fatto? Bizzarro nel parlare di pomodori, è chiaro. Allora, il maestro scrive nel 2017 il libro, edito da Rizzoli, bravi che l'avete editato, la musica fa crescere i pomodori, il suono, le piante e Mozart. Mozart, ok, non ci alziamo in piedi perché usciamo dall'inquadratura, ma lei l'ha fatto veramente, ha seguito questo esperimento, che peraltro è un esperimento di una grande università statunitense, ma la musica di Mozart fa crescere di più piante, pomodori e affini? Diciamo che gli scienziati non sono musicisti, per cui avevo letto di esperimenti nei quali attraverso i quali avevano dedotto che le mucche facevano più latte, l'8% in più di latte non è poco, l'8% in più di latte con la musica classica generico e di contro la musica pop. Ovviamente un musicista davanti a questo trancio non può, io non ci potevo stare a questo, dicevo sicuramente c'è altro e quindi ho cominciato a paragonare due grandi della musica classica, Mozart che aveva appunto interessi, su Mozart tanti interessi da parte dei ricercatori e Beethoven. Io ho visto che pure se sono due grandissimi della musica classica c'è la differenza di risposta da parte delle piante e di altri elementi che fanno parte della mia ricerca, tra l'altro anche sulle attività neuropsichiche dei bambini. Mozart ha un effetto assolutamente valutabile, benefico. Quindi sono partito da lì e quindi i miei strumenti sono andati su Mozart, che era già grande, adesso lo è ancora di più per me. Ma voi pensate fra cento anni, a 150, quando il maestro incontrerà Mozart? Oh ma che festa che sarà, una festa, 150 ho detto. Ah non vedo l'ora a questo punto. Ma che non vedo l'ora, ma chi dice maestro? Invece io non vedo l'ora di lanciare un'altra cartolina, un'altra messaggio di infinito amore per il maestro Vessicchio. Guardate. Ciao a tutti, ciao Peppe, so che questa è una sorpresa e so che sicuramente ti sentirai in imbarazzo perché un po' ormai ti conosco e so che i complimenti ti mettono in imbarazzo. Ma ho accettato volentieri perché sono parole che mi vengono dal cuore, perché ti voglio bene e ci conosciamo ormai da tanti anni. Per cui Peppe non è solo un grandissimo maestro, ma un grandissimo musicista, colto, preparato, sensibile, entusiasta, ma Peppe è anche un uomo speciale, è un uomo in pace, che trasmette pace. Ecco, quando stai vicino a lui, e questa è una sensazione che ho sempre avuto tutte le volte che ci siamo visti, che siamo stati a cena insieme, non so, il mondo ti sembra migliore. Ecco, lui è un uomo d'altri tempi, un uomo gentile, ironico, spiritoso, che ama godere dei piaceri della vita, della tavola, del buon vino, peraltro fa un vino fantastico, fatevelo dire perché fatevelo raccontare. Ed è questa serenità, che trasmette questa serenità. Deve avere un segreto, io non lo so, fatevelo dire voi qual è il suo segreto, ma raramente si trovano persone così in pace con se stesse, che trasmettono agli altri questa serenità. Ecco, ed è questo quello che sento. so che in questo momento sotto la barba ti sentirai imbarazzatissimo, però è quello che penso, e concluderò dicendo che averti come amico è un grande privilegio. Un bacio a te e un bacio a tutta la redazione. Fiorella Manoia, grazie, un bacio a te. È riuscita a farla imbarazzare, maestro? Sì, sicuramente, ma a parte l'imbarazzo, ma proprio anche il modo d'affetto che io restituisco in questo momento, mi farebbe piacere passare attraverso quel monitor e abbracciarla. Fiorella, con Fiorella abbiamo visto momenti veramente belli insieme, sempre grazie alla musica, ma possiamo dire anche al di fuori della musica. Cioè noi continuiamo a vivere l'emozione musicale anche se stavamo a tavola mangiando e bevendo il mio vino. Allora noi facciamo una cosa, noi purtroppo dobbiamo salutare il maestro Bessicchio che invece starà pensando, basta di avere questa qua davanti che mi parla, 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 ma lo salutiamo dicendo che il do maggiore, il mi maggiore, il sol maggiore e il fa maggiore, che ne so, non voglio correre, sono così felici, anche il minore, anche il diesis e anche il bemolle, quando lei apre e inizia a frequentare quei piccoli punti neri che sono le note che lei nobilita. Maestro, sa perché? Perché è un uomo nobile. Grazie di essere stato con me. Abbia pazienza, tanta pazienza con me, tanta. Grazie a te Pedesicchio, grazie, grazie, grazie. Ci fermiamo solo per un attimo allora, Solare. E che soddisfazione, proprio che soddisfazione. Allora, gli occhi e il cuore verso l'Ucraina. Siamo ad un anno, che vogliono dire 365 giorni, che vogliono dire morte, distruzione, una pena infinita per persone che hanno visto la propria esistenza, cambiare, cambiare sotto tutti i punti di vista. Abbiamo bisogno, ma voi lo fate sempre, perché siete un pubblico splendido, che mettiate una mano sul vostro cuore, che segnate questo numero, anzi fatelo proprio, 45588. Chiamate per favore, questo è il numero che UNHCR mette a disposizione per continuare a donare, per continuare a sostenere, per continuare quel lavoro che UNHCR, come fa in tutti i luoghi del mondo, ha immediatamente iniziato a fare per l'Ucraina. Laura Iucci, grazie di essere nuovamente con noi, direttore della raccolta foglio UNHCR Italia, e poi una testimonial, come si dice in questo caso, che è un'attrice splendida, oltre a essere una splendida donna, ma è tanto bella fuori e tanto bella dentro. Greta Scarano, grazie. Grazie, grazie mille. Grazie Greta. Allora, tu sei stata, posso dare del tu, vero Greta? Assolutamente. Posso dare, dopo che l'ho detto, non torno indietro. Testimonial e operativa, testimonial sul campo, tu sei arrivata fino in Moldavia. In Moldavia, sono andata a novembre, grazie a UNHCR. Io seguo UNHCR in realtà da tanti anni, sono stata da prima un angelo dei rifugiati e poi dal 2018 ho iniziato proprio a collaborare con loro. Mi hanno portata a Chisinao e per me è stata una fortuna enorme, un privilegio incredibile, perché, anche se può sembrare un po' paradossale, però vedere veramente quello che UNHCR riesce a fare sul campo, in una situazione come quella della crisi umanitaria bestiale che tutti conosciamo, che si è venuta a creare, vedere la risposta anche della popolazione Moldava, vedere il modo in cui i profughi ucraini hanno dignitosamente reagito, insomma, tutto questo l'ho potuto vedere veramente con i miei occhi, ho visto nella pratica cosa UNHCR riesce a fare. Stai dicendo cose tutte belle e tutte importanti, perché quando parli di privilegio, attenzione, può sembrare paradossale parlare di privilegio raccontando una guerra e vedendo ciò che la guerra produce, no, perché c'è l'altro lato, cioè quando si opera per il bene, quando si fa qualcosa di immediato e di buono per gli altri, allora quello diventa un privilegio, in un momento di dolore assoluto, vedere che c'è ancora una luce. Per me sì, perché in queste situazioni queste cose che noi diciamo possono sembrare a volte solo degli slogan o delle parole, ma non è la prima attività che ho fatto con loro, fuori dall'Italia è stata la prima attività che ho fatto con loro, in Moldavia appunto, e conoscere, ascoltare le storie di queste persone, sì, è stato veramente un privilegio. È un'altra cosa, il dolore non passa, possono passare i giorni, tu hai incontrato tante donne, persone anziane che mi hanno colpito più di tutto. Perché? Perché mi viene in mente i miei nonni e pensare che mia nonna a 80 anni si deve ritrovare in un'altra nazione, senza più una casa, senza più niente, mi ha veramente tanto colpita, è stato molto difficile vedere queste immagini. Sta dicendo cose importantissime Greta, provate a pensare alla persona che amate di più dentro casa, può non esserci più quella persona, ma provate a pensare a quella persona che amate immensamente scaraventata, in un'altra vita, in un'altra parte di mondo, privata di tutto ciò che è stata la sua storia. 45588, chiamate per favore, ma noi sappiamo che voi lo fate, però io ve lo voglio ripetere, ve lo devo ripetere, Laura Iucci, alla quale mi lega e ci lega affetto, riconoscenza e ammirazione per il tanto lavoro, ti sei, Laura, 24 febbraio di un anno fa immediatamente messa all'opera, immediatamente, perché automaticamente c'era bisogno di tutto. Noi ci siamo attivati immediatamente come UNHCR, perché ci tengo a ricordare, Paola, che noi eravamo già dal 94 presenti in Ucraina e abbiamo fatto, come spesso e direi sempre facciamo, la scelta di restare e resteremo finché non ci sarà bisogno di noi e finché l'ultima delle persone che è stata costretta, come ascoltavamo prima, anche dei racconti di Greta a lasciare la propria casa, che ha perso tutto per questa terribile e maledetta guerra, avrà bisogno di noi e non ci saremo fino all'ultimo, come sempre facciamo. Un anno fa quest'ora ero qui, lo ricorderai, anche un anno fa quest'ora eravamo lì a lanciare un appello disperato, non avremmo mai immaginato onestamente che un anno dopo nel cuore dell'Europa ci fosse ancora una guerra, che peraltro in queste ultime settimane vediamo un escalation della violenza, dei bombardamenti, della distruzione, della sofferenza umana e della sofferenza umana che a mio avviso è importante parlare oggi perché è come se fosse uscito un po' di scena, come se parlare di Ucraina oggi fosse più un fatto militare e politico e ci fossimo un po' dimenticati invece dell'effetto sugli esseri umani di tutto questo. Greta raccontava giustamente la commozione nell'incontrare persone private di tutto e portando sempre questo parallelismo con la nostra vita. Ha fatto freddo in questo inverno, fa freddo. Provate ad immaginare il freddo, oltretutto anche a livello di latitudine, da quelle parti e che cosa il freddo comporti e voglia significare. Che cosa significa chiamare il 45588 oggi? Significa trasformare con una telefonata da rete fissa o con un sms questo piccolo gesto in aiuti concreti. Cibo, medicine, bene di prima necessità, il freddo purtroppo all'inverno è diventata un'arma. Non a caso sono state bombardate le centrali elettriche, non a caso oggi noi ci troviamo come un NHCR a mettere dei generatori in dei luoghi dove le persone possono trascorrere due ore al giorno e riscaldarsi. Non so se ci rendiamo conto di cosa voglia dire, vivere a meno 10, meno 15 sotto le bombe con una casa ormai distrutta e non poterne anche riscaldarsi. Quindi noi trasformiamo questo con il 45588 si fa veramente la differenza tra la vita e la morte perché poter avere una coperta, poter avere una giacca calda, poter avere un pasto caldo, avere accesso a un'assistenza economica diretta, alle n attività che stiamo realizzando all'interno del paese e nei paesi limitrofi che come la Moldavia stanno accogliendo milioni di persone fuggite da questo conflitto è per noi indispensabile a salvare vite umane. Quindi oggi possiamo farlo insieme. Lo facciamo insieme. Greta, tu dicevi e stanno passando anche, noi le vediamo ma le vedete anche voi, tante immagini che vedono proprio Greta protagonista di questo viaggio. Hai fatto accenno al popolo moldavo, a quella forma di umana solidarietà che scatta e che forse è il motivo per cui siamo ancora su questa terra, il motivo per cui nonostante tutte le mostruosità che la storia porta con sé, ci siamo, siamo qui ancora. Ecco, tu hai visto in queste persone tanta dignità ma anche tanto, c'è la sensazione di aver perso proprio tutto. Guarda ti dico, ho conosciuto altri rifugiati ma non avevo mai conosciuto persone traumatizzate come i profughi ucraini perché il trauma della guerra è talmente vicino che non hanno ancora superato ovviamente questo shock. Io ho conosciuto altri rifugiati che vengono da altri paesi che hanno subito un trauma molti anni prima di parlare con me e quindi in qualche modo hanno già avuto modo di metabolizzarlo. Mentre queste persone si mettono a piangere davanti a te. Ma con una grandissima, ripeto, quello che voglio trasmettere è proprio con quella grandissima dignità, quella forza che mi ha lasciato sorpresa e soprattutto anche con una gratitudine per altre cose nei miei confronti. Io ero andata là solo per testimoniare in qualche modo, per poter portare... No, qui non sono d'accordo con te. Un testimonial è una persona che invece di guardare l'operazione dal divano di casa, nulla contro, si mette avanti in prima persona. Quindi un grande grazie. Questo certo. Ti va riconosciuto, Greta. Credi, credimi. Allora, ONHCR è questo. Guardate queste immagini, vi do sempre il minutaggio, un minuto e 12 secondi di come poter cambiare il mondo nel mentre. Fate il 45588, tanto con gli occhi guardate la tv e dall'altra parte siete al telefono. Per favore, grazie. È passato un anno dall'inizio della guerra in Ucraina e il dolore di milioni di persone fuggite dalla violenza e dalle loro case continua. Per loro è solo buio. Quello di chi ha perso tutto. Chi i propri cari, chi la casa, chi i propri sogni. Le famiglie estremate dal gelo invernale lottano ogni giorno per la sopravvivenza. Sono stanche, senza più niente, senza nessuna luce davanti a loro. Con ONHCR, agenzia ONU per i rifugiati, siamo accanto a queste persone per proteggerle e portare aiuti che salvano la vita. ONHCR distribuisce coperte, stufe, teli isolanti. Fornisce assistenza per riparare le case danneggiate dai bombardamenti. Ma non basta. Anche tu puoi fare qualcosa. Puoi aiutarci a riaccendere la luce della speranza. Invia un sms o chiama il 45588. Anche con una piccola donazione. La speranza prende vita. Riaccendiamo la speranza. 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 Siccome siete tutti al telefono, noi continuiamo, ma voi continuate a telefonare. 45588. Quello che può sembrarvi un minimo gesto lo è. Se volete fare un numero di telefono è una cosa semplicissima. Diventa automaticamente tantissimo per tantissime persone. Riaccendiamo quella speranza. Arrivo tra un istante da Laura Iucci. Torno da Greta Scarano. Decidere di far parte di questo gruppo, ecco perché mi permettevo di dirti, quelle persone ti ringraziavano perché è giusto ringraziare chi parte, lascia il proprio lavoro che è un altro e si presenta in quei luoghi. Per te è scattato come questa decisione di far parte di questa famiglia. Guarda, da una parte perché penso che i rifugiati siano le persone più vulnerabili della terra e UNHCR li protegge e quindi è matematico stare per me con UNHCR perché è un modo per dare voce a chi voce non ne ha e soprattutto perché quel nome, quel pannello blu con la scritta bianca sopra di UNHCR, o al contrario, quella cosa lì so che per un sacco di gente rappresenta la salvezza. C'erano questi stand che ho visto, questi centri di assistenza e queste persone, questi ucraini, queste mamme con due o tre bambini al seguito, con le loro mamme, con le nonne o con i nonni, quando vedono quel cartello vanno e sanno che lì troveranno un pasto, un luogo sicuro, i beni essenziali, come si fanno a non stare con UNHCR? Cioè per me è impossibile. Brava Greco, brava, brava davvero. Non solo per il tuo lavoro ma anche per questo che è parte, è parte del tuo essere, poi c'è il tuo lavoro di attrice che svolgi splendidamente. Allora, Laura Iucci, sì, quando arriva quel blu e bianco in tutto il mondo, voi siete, se prendessimo adesso un mappamondo, conteremmo quanti paesi? 135? 135. Ogni anno purtroppo questo numero è gestionato aumentare perché, ahimè, sappiamo bene che le guerre non si concludono, anzi si protraggono nel tempo e nuove ne iniziano. E poi quando le guerre finiscono il terremoto in Siria e in Turchia dove eravamo già presenti e dove siamo rimasti e dove siamo impegnati, H24, anche lì, a portare soccorso e a salvare vite umane perché, insomma, ricordiamolo che anche lì c'è una situazione drammatica. Purtroppo noi abbiamo sviluppato in questi 71 anni di storia una grande capacità di rispondere anche a emergenze enormi e quindi di essere in grado in 72 ore di portare soccorso a centinaia di migliaia di persone e quindi quando hai sviluppato questa capacità e hai questo come mandato, proteggerli e assisterli, è chiaro che, come diceva Greta, quando vedono il nostro logo sanno che sono al sicuro, che c'è protezione, che c'è sicurezza, che c'è la possibilità di avere accesso a quelle misure salvavita e che poi noi ci prendiamo carico di queste persone fino a quando non si trova una soluzione definitiva alla loro condizione. Quindi il nostro mandato si è arricchito in questi anni proprio per rispondere alle esigenze di questi contesti di conflitto che purtroppo tendono ad essere molto duraturi. e quindi bisogna mandare i bambini a scuola, bisogna pensare alla salute anche nel lungo periodo perché non ci dimentichiamo che queste erano persone che conducevano una vita normale fino al giorno prima, ma erano noi e con tutti i problemi che gli esseri umani hanno e che si portano con sé. C'erano i libri di scuola, c'erano le tazzine del caffè a casa, c'era il comodino, c'erano tutte quelle cose, il pettine sullo specchio del bagno, c'erano tutte quelle cose che provano ad immaginare di perdere improvvisamente tutto. Quella normalità che spesso diamo per scontata, no? Noi vorremmo che alla fine di questa nostra trasmissione arrivasse la notizia che la guerra è finita. Ci piacerebbe tantissimo che questo potesse accadere. Intanto però vi mostriamo queste immagini che dicono che la guerra c'è e anche a guerra finita. Ci sarà tanto, tantissimo da ricostruire. Guardate queste immagini e poi per favore fate quel numero di telefono. 45588 C'erano i libri di sottotitoli C'erano i libri di sottotitoli Sommesse dal cellulare oppure 5-10 euro dalla rete fissa. Greta Scarano, grazie. Grazie a te. Splendida testimonial per ONHCR. Laura Iucci, siamo qui. Grazie di essere ancora una volta al nostro fianco. Vi preghiamo, vi preghiamo, vi preghiamo. Fate questo numero di telefono. 45588 45588 Quando sentite nel filmato dire noi di ONHCR Noi siamo noi. Siamo tutti UNHCR. Tutti insieme. Grazie e sicura che chiamerete. Grazie. Grazie.